Yo! Oggi vi voglio parlare di un film. Ken Eisner, critico di Variety, l'ha definito troppo stupido per essere offensivo. Sigla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' un film che potremmo definire impegnato. Infatti il tema di base diciamo che risponde alla domanda cosa farebbe Gesù se fosse ancora vivo ai giorni nostri riguardo agli omosessuali. La storia praticamente è questa. In un paese del Canada abitato per lo più da lesbiche e omosessuali c'è una comunità di vampiri che li sta sterminando abbastanza velocemente. Muoiono uno dopo l'altro e diventano anche loro vampiri. Il parroco, il prete del posto, padre Eustacchio capisce che l'unico modo per risolvere in qualche modo la situazione è ricorrere direttamente ai piani alti e così incarica alcuni suoi colleghi di andare a recuperare niente po' di meno che Gesù Cristo in persona. Ovviamente il salvatore si schiara dalla parte dei deboli e degli umili iniziando a combattere questi vampiri aiutato da una serie di improbabili aiutanti. Escludendo quella che può essere definita critica sociale, la parte sicuramente più apprezzabile di questo film è l'immensa stupidità che è intrisa praticamente in ogni scena e in ogni personaggio di questo film, che sono per lo più stereotipi e macchiette, nulla di esageratamente complicato, ma è bello perché è volutamente fatto così. Ovviamente la parte meglio è Gesù che ci regala delle scene di un'idiozia, di una semplicioneria che veramente ti strappa le risate e lo fa con combattimenti che ricordano da vicino il Batman di Adam West degli anni Sessanta Oppure con un'ingenuità tipica dei bambini o ancora mettendosi a dialogare con una statuetta della Madonna, una tazza di gelato oppure rubando la stampella a un mozzoppo per usarla per poterci ballare. Sì, perché in questo film Gesù balla e canta. Questo era Gesù, secondo chi ha scritto diretto questo film. Qui Gesù ha i capelli corti, gli orecchini, non ha la barba, canta, balla e soprattutto fa botte con i vampiri utilizzando una qualche strana arte martiale dei falegnami, penso. Già che ci siamo, diamo una rapida occhiata anche ai suoi fedeli aiutanti. Il primo, come vi ho parlato prima, è Padre Eustacchio. Devo dire che trovo molto divertente l'idea di questo prete con il mezzo afro. Non si vedrà molto nel film, lui alla fine è più il supporto logistico di Gesù, infatti Gesù vive nella canonica di Padre Eustacchio. Poi abbiamo Mary Magnum, ossia per noi abituati alla televisione italiana, l'unica vera figa del film. Ah, a proposito, il film è completamente in lingua inglese, almeno quello che ho avuto l'opportuna di vedere io. Ci sono due scene in cui viene spiegata la trama. Una c'è Mary in costume da bagno. Non ci ho capito un cazzo. Il terzo personaggio è un personaggio ricorrente nei film della Odessa Production, ed è Santos, un lottatore di wrestling latinoamericano, messicano suppongo, che, beh, come una volta divennero i Beatles, diciamo che è più famoso di Gesù. Infatti è l'unico personaggio del film ad avere un proprio tema musicale. Santos arriva come rinforzo per Gesù, mandato... E arriva con un piccolo aereo insieme alla sua aiutante, Gloria Oddbottom. Un rapido accenno anche ai cattivi. Sono tre. Maxine, che era tipo l'abbadante di padre Eustacchio che è diventata un vampiro, Johnny Golgotha, un cattivo generico, e il dottor Pretorius, che è un quazzo chirurgo della morte che in qualche modo è riuscito a far diventare i vampiri immuni alla luce del sole. Ed ora chiediamoci un po', cosa succede in questo film? Beh, la ovvia risposta è di tutto. Quello di cui voglio parlarvi adesso è la scena della rissa del bar, in cui veramente Gesù tira fuori il peggio, il meglio, a seconda dei punti di vista, suppongo. Combo! Durante il film, Gesù deve affrontare molti avversari. Come vi ho accennato prima, li affronta combattendo contro di loro con questa strana specie di arte marziale che io penso di poter definire pugni tirati a cazzo. Però, la prima volta che ho visto quella scena, mi ha ricordato qualcosa. Visto? E non vi ricorda qualcosa tipo... questo? Comunque, la faccia scazzata di Gesù quando si vede arrivare contro altri nemici è a dir poco epica. Questo salvatore è un po' ingenuo. Infatti, in uno dei tanti confronti in cui si ritrova davanti i due vampiri cattivi, questi gli chiede, vuoi fare un gioco? Hey, vuoi giocare un gioco? Sicuramente. Secondo voi cosa è successo? Closate i occhi. In che mani siamo? Avete presente quella scena, cliché di telefilm, cartoni e film, in cui uno dei personaggi si trova dentro a un camerino ed entra e esce, entra e esce, entra e esce, sempre con un vestito diverso, mentre fuori c'è qualcuno che lo guarda e senza dire niente facenni... riguardo al suo abbigliamento? Ce l'abbiamo anche qui. Grazie a tutti. Da notare il fatto che una volta Gesù venga fuori vestito da pastore e un'altra con la scritta Fuck me. Ora, io non voglio rivelarvi tutte le scene e le particolarità divertenti di questo film, però qualcosa va detto. Una delle scene più divertenti, secondo me, è quella del confronto finale col dottor Pretorius. Praticamente, Gesù sta combattendo da un'altra parte ed è ripreso dalla televisione. È in diretta. E quindi, quando appare nello studio del dottor Pretorius, lui è sbigottito e gli dice come fai a essere qui? Ti ho visto di là in diretta. E lui risponde io sono dappertutto. Ma la battaglia prosegue. Ma quanto è tamaro questo Cristo? Ora, il finale non ve lo svelo, ma se conoscete abbastanza bene come me l'inglese, vi troverete di quei dialoghi che vi faranno morire dalle risate. Ma non voglio dirvi nulla. E anzi, sapete che vi dico? Il video è finito. Andate in pace. Naturalmente, prima di salutarci, un'ultima particolare chicca. 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 Un'ultima particolare chicca.